La vera libertà individuale non può esistere senza sicurezza economica ed indipendenza. La gente affamata e senza lavoro è la pasta di cui sono fatte le dittature. Queste, Presidente, sono le vere catene che imprigioneranno i nostri nuovi schiari lavoratori. Colleghi, per favore, togliete questi cartelli e le catene. Prego i commessi, intervengano. Intervengano i commessi. Togliete queste catene. Colleghi, per favore, non fate resistenza. Togliete i cartelli. Allora, i gestori sono presenti in aula. Questori, per favore, collaborate. Avete dimostrato abbastanza il vostro dissenso. Prego, dobbiamo continuare con i nostri lavori. Andiamo avanti con i nostri lavori.